Hola a todos, io sono Kronox, ben ritrovati nel mio canale, miei cari signori, nuovo pack opening Vi dico subito che se volete poi un terzo pack opening dobbiamo arrivare almeno a 500 like Quindi mi raccomando, spolliciate se ne volete un terzo Ma non perdiamoci in chiacchiere e andiamo subito a spacchettare Ed eccoci qua, stavolta ho messo la webcam in basso a destra Poiché la volta scorsa copriva un po' della visuale del pack opening Quindi non si vedevano bene le cose Stavolta invece ho risolto la vecchiaia raga Benissimo, miei cari, stavolta spacchettiamo 21 pacchetti Quindi abbiamo 2150 monete Apex Andiamo subito ad acquistare i pacchetti Sblocca, bene Sblocca di nuovo E ne abbiamo un altro Quindi 21 pacchetti in totale, miei cari signori Inutile dirvi che vorrei che mi uscisse il pacchetto completo di Raid Quello lì in cui c'è quel kunai, quel coltello, chiamatelo come volete Che è strafigo Quindi spero vivamente che ho quel culo e che ci uscirà Ma è molto molto difficile, miei cari Primo pacchetto Vediamo Il primo pacchetto già molto deludente Cos'è sto schifo? Il destino della vita e la morte Iniziamo proprio benissimo il pack opening Poi c'è sta merda qui Che schifo E questa qui Pure fa cagare Un pacchetto davvero pessimo Passiamo al prossimo Niente, anche questo fa cagare Mmm, ok Una skin del Devotion Equipaggiamola Cos'è sto brobrio? Per favore E poi abbiamo ricevuto 15 metalli No raga, non ci siamo eh Abbiamo qualcosa di più succulento Niente Nemmeno le epiche mi stanno scendo Skin di Bangalore Non è malvagia eh Sti teschi sono fighi però Non ci siamo ragazzi Non ci siamo Poi vabbè Una roba di Bloodhound È una skin dell'Alternator Che non è malvagia Non è malvagia dai Prossimo pacchetto dai Almeno una cosa epica Niente Proprio 20 euro buttati nel cesso Allora Non è malissimo questa dai Non è malissimo Anche se la Mozambique Non la uso mai quindi È alquanto inutile Poi un'altra roba per Bloodhound E altri metalli creazione Sì ma di questo passo Cioè dai Niente Nemmeno le epiche Skin Fenicottero Di Mirage Che merda Poi abbiamo il Cosmo Del Triple Take E poi abbiamo Questa skin Che non è male Questa è figa Sinceramente Questa è figa Bene Passiamo al prossimo Dai una cosa leggendaria Please No Niente Mi sa che non ci uscirà quel che vogliamo Ho però qua addirittura tre skin Mamma mia che schifo L'equipaggio è giusto per Questa pure Questa è oscena Questa invece è figa Ci sta Ma nemmeno lo uso Caustic Quindi capirete Dai Prossimo Che schifo ragazzi Stavo avendo proprio una sfiga assurda Skin comune No io c'ho la caccia demoni Su Raid Poi Oh oggi tutte skin Del Mozambique Che schifo Onore del padre Di tutti gli dèi Eh qua faccio scendere Gli dèi a furia di bestemmia Se non mi esce qualcosa Di utile Prossimo pacchetto Madora Che schifo Che merda Che merda Skin di Raid Metallicreazione Tutto finisce allo stesso modo Di merda Sì Tutto finisce allo stesso modo Vediamo adesso Oh un epico Dai Finalmente Posa banner Di Lifeline La mia Nemesi GG Poi una posa banner Di Gibraltar E poi altri metalli Sì ma vogliamo qualcosa di bello Qualcosa di strafigo Vogliamo Niente da fare Che devo fare Per far uscire una leggendaria Posa banner Di Caustic Sapevi che sarebbe Finito qui Sì la mia pazienza Sta finendo qui Quindi Per favore Dammi qualcosa di migliore Dai Vediamo Vabbè Io mi sparo È ufficiale È ufficiale Datemi una pistola Skin di Mirage Skin del Peacekeeper Questa non è Anzi fa schifo Stavo dicendo Non è malvagia Ma fa schifo Ragazzi E poi un'altra skin Della nostra carissima Raid Questa è figa Ci sta Però la caccia demoni Non si batte Prossimo pacchetto Che merda È incredibile Skin dell'iva Ma ne abbiamo una più figa Skin di Bangalore Ci sta Ma Raga Noi vogliamo qualcosa Di più bello Di più figo Dai Va bene È ufficiale Devo chiamare uno Che mi levi D'addosso alle maledizioni Però È uscita una roba interessante Per quanto riguarda La mia carissima Raid I danni inflitti Questo ci può stare Poi c'è uscita Una skin Per la carabina Questa pure è carina L'equipaggiamo E poi altri metalli creazione Sì ma Io sto spendendo 20 euro Per sto schifo Un'epica Vai Bella Peccato che questa È la pistola Pi' inutile Dell'intero gioco Però la skin è figa Mi hai fatto sudare Eh sì Mi sta facendo sudare Questo tech open Posso fare tutto Scegli tu Dammi una leggendaria Questo puoi fare Vediamo No va bene Signori Che tristezza Una skin Per lo spitfire Altri metalli creazione È ancora Sta troia Di lifeline Mannaggia Però Non è malvagissima Questa skin È ipnotica Ti prego Una leggendaria No Ragazzi che devo fare Devo trovare un metodo Per farmi uscire Una leggendaria Ancora sta Lifeline di merda Ma siamo seri? Porca miseria Ragazzi Stiamo avendo una sfiga assurda Cos'è sto schifo? Cos'è? Ultimi 5 pacchetti Io confido in questi ultimi 5 Che vi devo dire Niente Inutile Oh però Questa è figa Questa skin Della rate È figa Poi vabbè Una roba di Gibraltar Altri metalli Niente Ultimi 4 pacchetti La cosa strana Ragazzi è che Quando Ho fatto il pack opening Precedente Avevo solo 10 pacchetti Mi sono uscite Tipo 3-4 Leggendari Ora che ne ho presi 20 Non me ne sta uscendo Nemmeno uno Incredibile Veramente È scandalosa Come cosa Però questa la Utilizziamo Questa la utilizziamo Sulla nostra gara rate Poi c'è sta skin Bangalore Che È carina Ma Ultimi 3 pacchetti Niente ragazzi Niente da fare Niente da fare Skin del Blowdown Altri metalli Creazione Spero che tutti Sia divertito No Non mi sono divertito Affatto Anzi Voglio suicidarmi Dopo Questi pacchetti Penosi Ultimi 2 Niente ragazzi Dobbiamo confidare Nell'ultimo pacchetto Ma ormai ci ho perso Le speranze Farei meglio Non scherzare Con me Eh Lo direi All'Electronic Arts Poi abbiamo Una skin Del Mastiff Metalli Creazione Niente ragazzi Io mi arrendo Non penso che uscirà La leggendaria Però c'è uscita Un'epica C'è uscita Un'epica Del Devotion Io il Devotion Non lo uso mai Ragazzi Ragazzi Veramente Deludente Questo pack opening Veramente Uno schifo Nemmeno una leggendaria Uscita Povero me Povero me Portali Ho usato 162 portali Porca puttana Niente signori Purtroppo oggi è andata così 20 euro Sprecati Al negozio Cosa hanno messo Di figo Skin del Devotion Che non lo uso Signori Purtroppo Ci è andata Di sfiga Ma davvero Sfighissima Non sfiga Sfighissima Si sto nerdando Un bel po' Come potete vedere Sono livello 71 Che dire Era meglio Che non lo facevo Sto pack opening A sto punto No vabbè Dai ragazzi Ve l'avevo promesso Che vi avrei fatto Un altro pack opening Ed eccolo qua Ho buttato Nel cesso 20 euro Direi di si Però dai Per voi Questo è d'altro Il prossimo pack opening A 500 like Ragazzi Perché Non mi va di buttare Soldi in questo modo Senza nemmeno Una leggendaria Ragazzi Nemmeno il contentino Magari una leggendaria Di merda No Zero Solo due epiche Tipo Che merda Va bene signori Io deluso Amareggiato E sconfitto Vado via Spero che il video Vi sia piaciuto Io vi saluto E vi ringrazio Bella Che c'è Bella Che c'è